capitolo secondo il pranzo era stato eccellente non per nulla il signor giordano preferiva la campana del desinare alle leggende del castello verso le undici alla villa si pestava sul piano si saltava nel salotto e si giocava a carte nelle altre stanze la signora matilde era andata a prendere una boccata d'aria in giardino e sarà dimenticata di una polca che aveva promessa a signor luciano il quale la cercava da mezz'ora al fine disse scorgendola e la nostra polca ci tiene proprio molto e se la lasciassimo lì povera polca francamente sa e la racconta così bene certe storie che non l'avrei creduto un ballerino cotanto arrabbiato ci crede dunque alle storie ma secondo il quarto d'ora il silenzio era profondo il vento cacciava le nuvole rapidamente e di tanto in tanto faceva stormire gli alberi del giardino il cielo era inargentato a strappi le ombre sembravano inseguirsi sulla terra illuminata dalla luna e il mormorio del mare e quel sussurrio delle foglie sommesso ad intervalli a quell'ora aveano un non so che di misterioso la signora matilde volse gli occhi di qua e là in aria distratta e li posò sulla mole nera e gigantesca del castello che disegnavasi con profili fantastici su quel fondo cangiante ad ogni momento la luce e le ombre si alternavano rapidamente sulle rovine e un arbusto che aveva messo radici sul più alto rivellino agitavasi di tanto in tanto come un grottesco fantasma che si inchinasse verso l'abisso vede disse ella con quel sorriso incerto e con la voce malferma c'è qualche cosa che vive si agita lassù gli spettri della leggenda chissà chissà cotesto è il quarto d'ora delle storie oppure oppure cosa chissà cosa fa mio marito gioca a tre sette e la signora Olani sta a guardare ah mi racconti la sua storia riprese di lì a poco con singolare vivacità se non le rincresce per la sua polca la storia che Luciano raccontò era strana davvero la seconda moglie del barone d'Arvelo era una monforte nobile come il re e povera come Giobbe forte come un uomo d'arme e tagliata in modo da rispondere per le rime alla galenteria un po' manesca di Don Garzia e da promettergli una nidiata di darvelo numerosi come le uova che avrebbe potuto covare la chioccia più massaia di trezza prima delle nozze le avevano detto degli spiriti che si sentivano nel castello e che la notte era un gran tramestio per i corridoi e per le sale e si trovavano usci aperti e finestre spalancate senza sapere come né da chi usci e finestre che erano stati ben chiusi il giorno dinanzi e si udivano gemiti dell'altro mondo e scrosci di risa da far venire la pelle d'oca al più ardito scampaforche che avesse tenuto alla barda e vestito arnese donna Isabella avea risposto che fra lei e un marito come al vedere prometteva esserlo Don Garzia ella non avrebbe avuto paura di tutte le streghe di Spagna e di Sicilia né di tutti i diavoli dell'inferno ed era donna da tener parola la prima volta che si svegliò nel letto dove aveva dormito l'ultima notte la povera donna Violante mentre Grazia la cameriera della prima moglie del barone le recava il cioccolatte e apriva le finestre ancora mezzo addormentata domandò svogliatamente e così come va che gli spiriti non hanno ballato il trescone di benvenuto alla nuova castellana non si è sentito stanotte rispose la povera Grazia che anche a parlare ne aveva una gran paura sì ho udito il russare di Don Garzia e ti so dire che russa come dieci guardie vallone vuol dire che il cappellano ha benedetto la camera meglio delle altre volte ah sarà così oppure che faccio paura al diavolo e agli spiriti o che sarà per domani eh hanno dunque il loro cerimoniale e messeri gli spiriti come nostro signore il re racconta dunque io non so nulla madonna chi sa dunque questa storia mamma Lucia Brigida Maso il Cuoco Anselmo e il Rosso i due valletti di Messere il Barone e Messer Bruno il Capocaccia e cos'hanno visto costoro nulla nulla cos'hanno udito dunque hanno udito ogni sorta di cose che Dio ce ne liberi e da quando si sono udite di queste cose che Dio ce ne liberi da che è morta la povera donna Violante la prima moglie di Messere qui proprio qui in questo lato del castello ma dalla cima dei merli sino in fondo alle cucine di cui le finestre danno sulla corte la baronessa si mise a ridere e la sera narrò al marito quel che le era stato detto Don Garzia invece di riderne anch'esso montò in una tal collera che mai la maggiore e incominciò a bestemmiar Dio e i Santi come donna Isabella non avea visto né udito fare dagli staffieri più staffieri che fossero a casa dei suoi fratelli e a minacciare che si avesse saputo chi si permetteva di spargere cotali fandonie l'avrebbe fatto saltare dal più alto rivellino del castello la baronessa fu estremamente sorpresa che quel pezzo di uomo il quale non doveva aver paura nemmen del diavolo avesse dato tanto peso a delle sciocche storielle e in cuor suo ne fu contenta che si sentiva più degna del marito di portare i calzoni e di far la castellana come andava fatto dormite in santa pace madonna le disse don garzia che qui nel castello e fuori pel giro di dieci leghe sin dove arriva il mio buon diritto e la mia buona spada non c'è a temere altro che la mia collera però la baronessa sia che le parole del marito l'avessero colpita sia che delle sciocchezze udite le fosse rimasta qualcosa in mente si svegliò di soprassalto verso la mezzanotte credendo d'aver udito o d'aver sognato un rumore indistinto non molto lontano proprio dietro la parete dell'alcova stette in ascolto con un po' di batticuore ma non sudiva più nulla la lampada notturna ardeva ancora e il barone russava della meglio e la non ardì svegliarlo ma non poté ripigliare sonno il giorno dopo la sua donna la trovò pallida ed accigliata e mentre la pettinava dinanzi allo specchio la baronessa coi piedi sugli alari e bene avvolta nella sua veste da camera di broccato le domandò dopo aver esitato alquanto orsù dimmi tutto quel che sai degli spiriti del castello io non so altro che quelle che ne ho udito raccontare da rosso e da brigida volete che vi chiami brigida no rispose con vivacità donna isabella anzi non dire ad anima viva che io te n'abbia parlato raccontami quel che t'hanno detto brigida e il rosso brigida quando dormiva nella stanzuccia accanto al corridoio qui vicino udiva tutte le notti poco prima o poco dopo dei dodici colpi della campana grossa aprire la finestra che dà sul ballatoio e la porta del corridoio la prima volta che brigida udì quel rumore fu la seconda domenica dopo pasqua la ragazza aveva avuto la febbre e non poteva dormire l'indomani tutti coloro ai quali raccontò il fatto credettero che fosse stato inganno della febbre ma la poverina a misura che il giorno tramontava aveva una gran paura e cominciò a parlare in tal modo del gran viavai della notte che tutti credettero fosse delirante e mamma Lucia rimase a dormire con lei l'indomani anche mamma Lucia disse che in quella camera non avrebbe voluto passarci un'altra notte per tutto l'oro del mondo allora anche coloro i quali si erano mostrati più increduli cominciarono ad informarsi e del come e del quando e Maso raccontò quello che non aveva voluto dire per timore di farsi dar la baia dai più coraggiosi da più di un mese avea udito rumore anche nel tinello e si era accorto che gli spiriti facevano man bassa sulla credenza a poco a poco raccontò pure quel che aveva visto visto sì madonna sospettando che alcuno dei guatteri gli giocasse quel tiro si appostò nell'andito dietro il tinello col suo gran coltellaccio alla cintola e attese la mezzanotte ora in cui soleva si udire il rumore quando tutto a un tratto non si udiva ronzare nemmeno una mosca si vede comparir dinanzi un gran fantasma bianco il quale gli arriva addosso senza dire né hai né oi e gli passa rasente senza fare altro rumore di quel che possa fare un topo che va a caccia del formaggio vecchio il povero cuoco non volle sapere altro e fu a un pelo di buscarne una bella e buona malattia ah disse la baronessa ridendo e cosa fece in seguito non fece nulla acqua in bocca andò a confessarsi a comunicarsi ed ogni sera prima di mettersi il letto non mancava di recitare le sue orazioni e di raccomandarsi ben bene a tutte le anime del purgatorio che sogliono gironzare la notte in bosca di requiem e di suffragi giacché sono degli spiriti i quali rubano in tinello come dei gatti affamati o dei guatteri ladri se fossi stato in Messermaso invece di infilar paternostri mi sarei raccomandata alla mia miglior lama onde cercare di scoprire chi fosse il gaglioffo che si permetteva di scambiarle parti coi fantasmi oh madonna la stessa cosa disse il rosso il quale un pezzo di giovinotto che il diavolo stesso che è il diavolo non gli farebbe paura e si mise a ridere forte e gli disse bastargli l'animo di prendere lo spirito il fantasma il diavolo stesso per le corna e fargli vomitare tutto il ben di dio di cui dicevasi si desse una buona satolla in cucina mai non l'avesse fatto la notte seguente si apposta anche lui nel corridoio come aveva fatto il cuoco con la sua brava partigiana in mano ed aspetta un'ora due tre infine comincia a credere che Maso si sia burlato di lui e che il vino gli abbia fatto dire una burletta e comincia ad addormentarsi così seduto sulla panca e con le spalle al muro quando ecco tutta un tratto tra veglia e sonno si vede dinanzi una figura bianca la quale toccava il tetto col capo e stava ritta dinanzi a lui senza muoversi senza che avesse fatto il minimo rumore nel venire senza che si sapesse da dove fosse venuta un po' di barlume veniva dalla lampada posta nella sala delle guardie dal vano dell'arco al di sopra della parete e il rosso giura d'aver visto i due occhi che il fantasma fissava su di lui lucenti come quelli di un gatto soriano il rosso o non fosse ancora ben sveglio o provasse un po' di paura per quella abita apparizione senza dire né una né due mise mano alla sua partigiana e menò tal colpo da spaccare in due un toro fosse stato di bronzo ma la spada gli si ruppe in mano così come fosse stata di vetro o avesse urtato contro il muro si vide un fuoco d'artifizio di faville a guisa dei razzi che si sparano per la festa della madonna dell'ognina e il fantasma scomparve né più né meno di come fa un soffio di vento lasciando il rosso atterrito col suo troncone di spada in mano e talmente pallido da far paura a chi lo vide per il primo e da allora in poi invece di chiamarlo il rosso gli dicono il bianco la baronessa rideva ancora in aria di incredulità ma le sue ciglia si corrugavano di tanto in tanto e pur tenendo gli occhi fissi nello specchio non avea badato né al come grazia le stesse pettinando né al come le avesse increspato i cannoncini della sua gorgerina ricamata o che la convinzione della cameriera fosse talmente sincera da esser comunicativa o che il sogno della notte avesse fatto una potente impressione su di lei pensava più che non volesse alla notte che doveva passare un'altra volta in quella medesima alcova e cosa si dice nel castello di goteste apparizioni domandò dopo un silenzio di qualche durata madonna parla madonna si dicono delle sciocchezze raccontamele messere il barone andrebbe su tutte le furie se lo sapesse tanto meglio raccontamele madonna io sono una povera fanciulla sono un ignorante avrò parlato senza sapere quel che mi dicessi messere il barone mi butterebbe dalla finestra più facilmente che io non butti via questo pettine che non serve più per carità madonna non vogliate espormi alla collera di messere preferiresti esporti alla mia esclamò la baronessa aggrottando le ciglia ahimè madonna orsù spicciati voglio sapere tutto quello che si dice ti ripeto e bada che se la collera del barone è pericolosa la mia non ischerza si dice che sia l'anima della povera donna violante la prima moglie del barone rispose grazia messa alle strette e tutta tremante com'è morta donna violante si è buttata in mare lei proprio lei dal ballatoio mezzo rovinato che gira dinanzi alle finestre del corridoio grande sugli scogli che stanno laggiù in fondo al precipizio fu trovato il suo velo bianco era la notte del secondo giovedì dopo pasqua e perché si è uccisa chi lo sa messere dormiva tranquillamente accanto a lei fu svegliato da un gran grido ma non se la trovò al fianco e prima che fosse ben sveglio vide una figura bianca la quale fuggiva si udì un gran baccano per il castello tutti furono in piedi in men che non si dica un ave maria si trovarono gli usci e le finestre del gran corridoio spalancati e il barone che correva sul ballatoio come un gatto inferocito se non era il capocaccia il quale l'afferrò a tempo il barone sarebbe caduto dal parapetto rovinato nel punto dove cominciava la scala per la torretta di guardia di cui non rimangono altro che le testate degli scalini il fantasma il fantasma era scomparso giusto in quel luogo la baronessa s'era fatta pensierosa è strano mormorò della signora non rimase né si vide altro che quel velo nella cappella del castello e nella chiesa del villaggio furono dette delle messe per tre giorni in suffraggio della morta e una gran folla assisteggi in occhione ai funerali che tutti le volevano un ben dell'anima per le gran limosine che faceva quando era in vita però sebbene messere avesse dato ordine che le esegue fossero quali si convenivano a così ricca e potente signora e la bara con le armi della famiglia ricamate sulle quattro punte delle coltre stesse tre di e tre notti nella cappella con più di quaranta ceri accesi continuamente lo stendardo grande ai piedi dell'altare e drappelloni e scudi intorno che mai non si vide pompa più grande il barone partì immediatamente né si vide mai più al castello prima d'ora meno male mormorò donna Isabella don Garzia non mi ha mai detto nulla di tutto ciò ma è bene che io lo sappia alcuni pescatori poi che erano andati sul mare assai prima degli altri raccontano d'aver visto l'anima della baronessa tutta vestita di bianco come una santa che ella era sulla porta della guardiola lassù a passeggiare tranquillamente su e giù per la scala rovinata ove un gabbiano avrebbe paura ad appollaiarsi quasi stesse camminando su di un bel tappeto turco e nella miglior sala del castello ah esclamò la baronessa e non disse altro si alzò e andò a mettersi alla finestra il giorno era tiepido e bello e il sole festante che entrava dall'alta finestra sembrava rallegrasse la tetra camera madonna isabella non se ne avvedeva sembrava metitabonda e voltandosi a un tratto verso la grazia mostrami dov'è caduta donna violante le disse colà in quel punto dove il muro è rotto e cominciava la scala per la guardiola della sentinella quando vi si metteva una sentinella e perché non ci si mette più adesso domandò la baronessa con un singolare interesse bisognerebbe avere le ali per arrampicarsi lassù adesso che la scala è rovinata il più ardito manovale non metterebbe i piedi su quel che rimane degli scalini ah è vero e rimase contemplando lungamente la torricciola la quale isolata com'era sembrava attaccarsi paurosa dell'abisso che spalancavasi al di sotto alla cortina massiccia e gli avanzi della scalinata cadenti smantellati senza parapetto sospesi in aria a quattrocento piedi dal precipizio sembravano un addentellato per qualche costruzione fantastica infatti mormorò come parlando fra di sé sarebbe impossibile c'è da averne il capogiro soltanto a guardare si tirò indietro bruscamente e chiuse la finestra grazia vedendo la sua beffarda padrona così accigliata e accorgendosi che la sua storia avea fatto tale inattesa impressione su di lei sentiva una tale paura come se avesse dovuto passare la notte nella camera di rosalia ahimè madonna io ho detto tutto per obbedirvi e senza pensare che ci va della mia vita se lo risapesse il barone abbiate pietà di me madonna non temere rispose donna Isabella con un singolare sorriso coteste cose vere o false non si raccontano al mio signore marito ma dimmi anche quel che si dice del motivo che abbia spinto donna violante ad uccidersi poiché un motivo qualunque ci sarà stato qualcosa si dirà a torto o a ragione di giuro per le cinque piaghe di nostro signore e per la santa giornata di venerdì che oggi che non si dice nulla o almeno che non so nulla da principio quando si è incominciato a sentire dei gemiti nelle notti di temporale ed anche tutte le notti dal sabato alla domenica e tutte le volte che fa la luna o che qualche disgrazia deve avvenire nel castello nei dintorni si credeva che la berenessa fosse morta in peccato mortale e perciò la sua anima chiedesse aiuto dall'altro mondo mentre i demoni l'attalagnavano ma poi Beppe il pescatore raccontò la visione che gli apparve sull'alto della guardiola e alcuni giorni dopo quel bravo vecchio di suo zio Gaspare l'ebbe confermata e si ebbe la certezza che l'anima benedetta della baronessa era in un luogo di salvazione e si pensò invece a quella di Corrado il Paggio poveretto com'era morto il Paggio s'era ucciso anche lui non era morto era scomparso quando? due giorni prima della morte di donna violante e chi l'avea fatto sparire? chi? balbettò la ragazza facendosi pallida ma chi può far sparire un'anima del signore e portarsela a casa sua come un lupo ruba una pecora messer demonio? ah era dunque un gran peccatore cotesto messer Corrado no madonna era il giovane più bello e gentile che sia stato al castello la baronessa si mise a ridere mia povera grazia quelli sono i peccatori che messer demonio so rapire a cotesta maniera e poi rifacendosi pensosa volse un lungo e profondo sguardo su quel letto dove il gemito pauroso l'avea fatta sussultare la notte quando si odono questi gemiti dell'altro mondo domandò in quelle notti in cui il fantasma non si fa vedere è strano e dove? qui madonna in questa alcova e nell'andito che c'è accanto nel corridoio che passa vicino a questa camera e nello spogliatoio che è dietro l'alcova insomma qui vicino per tutta risposta grazia si fece il segno della croce la baronessa strinse le labbra tutta un tratto va bene le disse bruscamente ora vattene non temere non dirò nulla di quel che mi hai detto fine del secondo capitolo grazie a tutti